buongiorno a tutti benvenuti per questo webinar del martedì 5 febbraio vi ringrazio per essere con noi oggi per questo punto di mercato buongiorno a giuseppe buongiorno a luigi buongiorno a daniela roberto siete in tanti vi ringrazio se qualcuno può gentilmente confermare che riuscita a sentirmi e anche a vedere il mio schermo incomincieremo subito quindi potete utilizzare il pannello della chat del webinar sulla destra per confermare che riuscita a vedere il grazie buongiorno a tutti benvenuti per questo webinar del martedì 5 febbraio vi ringrazio per essere con noi oggi e di averci raggiunto saluto andrea buongiorno buongiorno marco buongiorno michele buongiorno a carlo buongiorno luigi roberta alessio pasquale riuscite a sentirmi riuscita a vedere il mio schermo se potete gentilmente confermare con il pannello della chat potete utilizzare quindi il pannello della chat sulla destra per confermare che si sente e si vede ok ottimo quindi io incomincio come al solito partiamo dal calendario economico perché abbiamo un po di cose questa settimana ma soprattutto come come sapete per capire un po quando ci saranno gli eventi che ci interessano per la voletita sul mercato ok ripeto il calendario economico uno strumento che potete trovare sul sito nagamarkets.eu.com poi cliccando su strumenti e calendario economico e vi fa un riassunto delle notizie che vengono rilasciate sul mercato quindi delle notizie che stanno per sia appunto essere rilasciate e dove potete trovare quindi il mercato cioè il paese il mercato della notizia insieme a un colore e il nome della notizia ricordo sempre i colori arancione notizia di media importanza rosso notizia di maggior importanza grigio notizia di bassa importanza ok quindi noi chiaramente ci concentriamo e ci interessano le notizie rosse e alcune arancione bene vediamo quindi per questo martedì quali sono le notizie che abbiamo su il nostro bellissimo calendario economico abbiamo prima di tutto già c'è stato una notizia sull'euro vendita al dettaglio in zona euro negativa questa mattina alle 10 questo è l'orario inglese quindi quando vi collegate dal vostro calendario a secondo la vostra location dovreste avere l'orario aggiornato andando più in avanti abbiamo le tre orari inglesi questo pomeriggio quindi le quattro orari italiano un dato sul dollaro ism non manufacturing pmi e niente altro per oggi quindi una giornata questo martedì molto tranquilla vedete niente di che già le notizie importante l'euro è già passato qualcosa sul dollaro questo pomeriggio andando più avanti per domani mercoledì 6 febbraio avremo di notte uno speech della royal bank of australia cioè banca centrale d'australia uno speech del governor ok ricordatevi tutte le cose collegate a banca centrale tassi di interesse sono le cose che fanno muovere specialmente il mercato valutario quindi se avete posizione sull'australiano magari questa cosa può impattare andando più avanti qualche notizia arancione e finalmente un dato rosso alle tre di pomeriggio sul dollaro canadese e di seguito un altro dato rosso sul petrolio ok stock di petrolio queste due notizie perché sono molto molto interessante da seguire per chi opera sia sul dollaro canadese sia sul petrolio semplicemente perché sono due mercati molto molto correlati nel senso che spesso si muovono insieme quando avete un certo movimento sul dollaro canadese spesso avesse avete lo stesso movimento sul petrolio che sono due prodotti due mercati molto correlati semplicemente perché il canada sporta tantissimo petrolio ok quindi chi ha posizioni sul canadese o sul petrolio domani pomeriggio magari qualcosa lo può fare o può prendere una qualsiasi decisione chiudere la posizione prima aprire una posizione prima cioè poi vedete che a seconda di vostre strategie andando più avanti questo mercoledì qualcosa su dollaro neozelandese ok dato rosso e tutto qua per questa giornata il giovedì invece comincia in modo abbastanza pesante speech del caro powell presidente della fed americana quindi questo è il dato cioè l'evento di questa settimana questo speech della fed americana dove può uscire qualsiasi tipo di notizia su la futura politica monetaria del dell'america rialzo una guidance appunto sul rialzo di tassi interesse o magari un cambiamento nella politica monetaria americana quindi questo è l'evento diciamo che può far muovere il mercato questa settimana sia il dollaro sia gli indici americani e poi finiremo il giovedì con un'altra notizia molto 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 pesante che la decisione sui tassi di interessi della banca d'inghilterra bank of england allora mi fermo magari su questa su questa qui semplicemente perché ne abbiamo parlato due settimane fa del discorso brexit giusto e del potenziale impatto sul valore della sterlina e di potenziale chiaramente opportunità per operare sulla sterlina in questo contesto un po nervoso giusto ovviamente ogni notizia quando vedete in questo contesto molto nervoso di mercato dove praticamente nessuno sa ancora tuttora cosa succederà all'inghilterra se il brexit succede con un accordo senza accordo sono tutti un po persi giusto per cui una minima notizia fuori dalle aspettative ad esempio quel tasso di interesse aspettato a 0.75 una minima notizia fuori dalle aspettative può creare e causare volatilità importante sul mercato molto importante c'è già molta nervosità se qualcosa esce fuori da quello che si aspettava il mercato può rispondere in modo molto molto violento e quindi sappiamo che questo giovedì la sterlina potenzialmente ci può creare una bella opportunità allora per sì ancora una volta riassumere il discorso brexit che poi vedremo quando andremo a studiare più la parte grafica c'era un accordo un accordo che è stato rispinto in parlamento in inghilterra e quindi gli inglesi hanno provato a negoziare di nuovo l'accordo l'unione europea ha detto niente l'accordo è fermo non si negozia niente e quindi adesso sono tutti un po fermi siamo in una situazione che è più o meno quella peggiore perché è quella che favorisce un no deal cioè un'uscita del regno unito senza accordo con l'unione europea e questo sarebbe lo scenario che sarebbe il peggiore sia per il prezzo della sterlina ok perché da un punto di vista economico sarebbe a corto termine non ottimo per il regno unito e quindi sarebbe un scenario che sarebbe il peggiore praticamente e ci stiamo avvicinando poco a poco verso questo scenario ogni giorno che passa più ci avviciniamo alla deadline di fine marzo senza avere nuove notizie o nuovi passi fatti sia dal punto di vista del regno unito sia dell'europa diventa sempre più probabile un'uscita senza deal per il regno unito infatti tanti si stanno preparando vedete già che molti gruppi hanno lasciato l'inghilterra sono andati a impostare le sede in europa o in altri posti quindi tutto questo lo teniamo in mente perché da tutta questa situazione un po brutta per il regno unito può nascere un'opportunità di trading molto interessante sulla sterlina e poi lo vedremo a livello grafico ok continuando abbiamo uno piccolo speech qua ma niente di che perché non è mario draghi che parla è un altro membro del banca centrale europea e subito dopo abbiamo il caro mark carney quindi il governor della banca d'inghilterra che fa la conferenza stampa ok quindi 12 12 e mezza sterlina questo giovedì dopodiché abbiamo all'uno e mezza jobless claims in america qualcosa su dollaro e sarà tutto se non sbaglio per questo giovedì ora ma venerdì dovrebbe rimanere un giorno abbastanza tranquillo se non sbaglio qualcosa sul dollaro canadese all'uno e mezza quindi le due e mezza in inghilterra in italia scusate e finiremo la settimana così quindi per riassumere non è una settimana dove abbiamo notizie tipo nfp adp non farm e queste cose però tuttavia abbiamo comunque qualcosa di interessante sia sul dollaro petrolio e la sterlina giovedì ok passiamo adesso invece alla parte grafica che aspettate tutti lo so e comincio sempre con il nostro caro euro dollaro prima di cominciare magari ripeto se avete delle domande se ci sono dei mercati che volete analizzati se ci sono dei prodotti in cui operate volete magari un'analisi chiedetelo pure sulla chat del webinar lo faccio volontieri ok io faccio sempre i prodotti che sono quelli principali quelli dove vedo cose interessanti da un punto di vista trading ok però magari un altro prodotto che non analizzo spesso vi interessa e lo potete chiedere ok allora questo euro dollaro cosa sta facendo beh prima di tutto eravamo in una settimana l'ultimo webinar che abbiamo fatto avevamo detto eravamo intorno a questo livello avevamo detto primo supporto non li ho mossi i livelli potete vedere i webinar che abbiamo fatto in passato io utilizzo i stessi livelli da parecchio tempo non l'ho mosso né la prima resistenza nel primo supporto ok e quindi avevamo detto il primo supporto è sempre qui cosa ha fatto l'euro dollaro è andato a prendere il supporto e si è fermato il supporto ha funzionato non abbiamo avuto la rottura magari che alcuni aspettavano non c'è stato rottura l'euro dollaro ha semplicemente rimbalzato ed è andato a prendere la prima resistenza ok ingrandisco il grafico così magari vedete di più allora primo supporto ferma il mercato rimbalza e va a prendere la prima resistenza zona 1 14 50 1 14 80 ok piccolo eccesso sopra la resistenza vedete l'ombra fino a 1 15 00 livello psicologico vediamo un po' il contesto lungo termine che non è cambiato ma faccio un riassunto per chi non ha potuto seguire i webinar che facevamo prima contesto lungo termine sull'euro dollaro trend al ribasso chiaro si vede chiaramente non bisogna essere in stein per vederlo sono minimi sempre inferiori massimi sempre inferiori e quindi il contesto di mercato di adesso è uno range ok uno range contenuto tra questi due diciamo questi i due ladi quindi lato inferiore 1 12 80 lato superiore come dicevo 1 14 60 1 14 80 molti hanno detto guarda che il tuo range romana non è giusto non è corretto perché qua c'è stato due eccessi uno qua e uno qua quindi non è valido invece sì lo è perché questi eccessi visti da un punto di vista di un grafico giornaliero daily come sto analizzando adesso vi sembrano rotture false ok però se prendiamo un grafico da un punto di vista settimanale ci mettiamo sul weekly guardate cosa abbiamo qua abbiamo un range bello pulito e quello che vi sembrano delle rotture sul grafico daily sono semplicemente delle trappole rialziste e ribassiste ok e si fermano come ombre sul grafico settimanale ok quindi abbiamo un'ombra al ribasso qua e la falsa rottura al rialzo che era il bull trap clamoroso sull'euro dollaro qui una bella ombra quindi vediamo che se ci mettiamo sul weekly il range si materializza molto più chiaramente io ripasso sul grafico daily perché è più semplice per le entrate per il timing entrare su un daily rispetto a un weekly soprattutto per chi fa swing trading in settimana allora su questo grafico daily cosa abbiamo adesso quindi la prima resistenza ha fermato il mercato i compratori hanno chiuso i venditori freschi sono entrati abbiamo avuto anche un secondo pullback qua su questa candela secondo test della resistenza e abbiamo preso la direzione sud quindi stiamo andando piano piano stiamo facendo il ritracciamento ripeto siamo su un livello di resistenza in un contesto ribassista di lungo termine in un range ma non bisogna essere molto molto furbo per capire che qua c'è poco da fare che cercare un'entrata short ok quindi chi vuole shortare questo mercato cerca di shortare il più vicino possibile chiaramente a la resistenza chi vuole entrare subito può anche entrare subito a mercato con lo stop loss bello largo sopra 1 15 20 ok quindi ripeto entrata short l'ideale sarebbe di entrare ancora una volta più vicino possibile la resistenza ma ormai un po tardi e non è detto che il mercato fa un pullback quindi chi vuole essere magari un po più aggressivo può entrare anche intorno a questo livello aspetta un piccolo rimbalzo entra mette lo stop loss sopra 1 15 20 primo target stessa cosa il primo supporto ok primo target primo supporto e vi fa un trade che assomiglia a questo quindi abbiamo detto stop loss intorno a qui entrata più vicino possibile a la resistenza primo target qui sotto i font rate con un rapporto rischio guadagno abbastanza interessante anche se entrate intorno a 1 14 20 30 stop loss 1 15 20 sono 100 pips di stop loss per un take profit 12 80 vedete che è un rapporto rischio guadagno molto positivo questo per lo scenario short scenario in direzione del trend scenario anche logico non è un scenario contrario abbiamo un trend ribassista abbiamo una resistenza che ha funzionato l'entrata short in direzione del trend take profit sul primo supporto chi vuole il scenario contrario che piace che piace a certi di voi lo so scenario contrario lo do quindi scenario al rialzo bisogna trovare un supporto diciamo che sia un supporto di un supporto pivot che sia in mezzo a questo range ok abbiamo questi due ladi e bisogna cercare un livello dove potenzialmente il prezzo può rimbalzare allora io propongo come livello diciamo intermediario questo livello qui livello tra 1 13 84 e livello tra 1 13 1 14 diciamo questa zona qui per chi vuole entrare long sull'euro dollaro e provare un'entrata speculativa contro trend molto aggressiva perché scelgo precisamente questo livello non soltanto perché c'è stata una price action dove abbiamo visto che il mercato si è fermato vedete si è fermato diverse volte qui qui ha rotto ha fatto il pullback ma c'è anche un altro motivo che semplicemente perché abbiamo un livello di fibonacci in mezzo a questo livello se trovo il mio ritracciamento di fibonacci vedete questo livello è precisamente in mezzo al 50 61.8 per cento di fibonacci quindi questo sarebbe se un un swing long dovrebbe cioè deve partire da da questa zona se deve un swing long deve partire partirà da questa zona ok questo è il primo livello per compratori aggressivi secondo livello per compratori aggressivissimi e quello del supporto precedente così avete magari un un altro scenario sull'euro dollaro sì c'è anche questo bellissimo candelone al rialzo che che vedete qui e quindi questo candelone da molti è visto come un potenziale inizio di un trend al al rialzo ancora una volta non è lo scenario che preferiamo scenario che preferiamo scenario di lungo termine al ribasso però do anche le due visioni così poi potete decidere come muovervi questo per l'euro dollaro adesso passo invece a un altro cross che è quello della sterlina la sterlina e il brexit quindi gbp usd gbp usd grafico giornaliero ok la sterlina ha sviluppato quindi un trend al rialzo dall'ultimo webinar che abbiamo fatto avevamo dato pure la resistenza stessa storia dell'euro dollaro la sterlina si è fermato precisamente sul livello di resistenza ok grafico vedete livello di resistenza orizzontale zona si possiamo dire 1 32 50 fino a 1 32 affermati il mercato e abbiamo quindi fatto un ritracciamento ok il lungo termine della sterlina dollaro rimane al ribasso sul lungo lungo termine anche se il corto termine è passato rialzista vedete questo questo movimento enorme al rialzo abbiamo avuto rotture dopo rotture cioè rottura di questa resistenza rottura di questa resistenza siamo partiti molto velocemente da eravamo a 1 20 24 60 arrivati a 1 32 non è un movimento piccolo questo qua è quasi il doppio di quello che ha fatto l'euro dollaro nel suo range adesso come muovervi in base a questa questa sterlina prima di tutto abbiamo detto il lungo termine rimane al ribasso il corto termine rimane al rialzo questo è un po difficile da tradare giusto perché dovete decidere da che parte stare ok allora io vi do i livelli chiavi poi vedremo quali sono le indicazioni che abbiamo su qual è il scenario preferito primo livello che avevamo questo livello di resistenza rotto ok potenzialmente un nuovo supporto ok ormai lo sapete un livello di resistenza rotto diventa un potenziale supporto quindi zona 1 29 80 1 30 possiamo dire potenziale supporto sulla sterlina come va tradato questo supporto ordini long stop loss sotto il supporto dando sempre spazio al mercato ok quindi secondo le vostre tempistiche di trading potete decidere di impostare un stop loss intorno a me sotto 1 29 40 oppure sotto 1 29 30 take profit per questo trade su la primo take profit sulla resistenza prima resistenza ok quindi abbiamo detto un'entrata più vicino possibile a 1 29 80 questo è un trade possibile su sterlina dollaro un long ok mentre chi vuole shortare questa sterlina deve prima di tutto aspettare una rottura di questo di questo supporto ok quindi a questo punto aspetta un scenario di questo tipo rottura chiara del livello per prendere poi il potenziale pullback ok e quindi per adesso non c'è ancora questo timing per un short ok non è ancora successo ma questo sono queste sono diciamo le i requisiti per secondo me per un un short su sterlina dollaro aspettare la rottura prendere il pullback il più vicino possibile a questo livello per aver come target prima di tutto questo livello qui testato diverse volte che avevamo utilizzato in passato e poi magari il livello di supporto successivo che è qui sotto così avete entrambi i scenari ok ripeto che più ci avviciniamo a un potenziale brexit senza senza accordo e più c'è incertezza e nervosismo su sul discorso brexit più la sterlina andrà a soffrire ok quindi per me lo scenario di rottura di questo supporto e pullback per andare a prendere magari supporti successivi è un scenario che a livello di statistica è più probabile rispetto al scenario rialzista ok quindi vedete che spesso potete anche utilizzare il discorso fondamentale per mischiare con l'analisi tecnica l'analisi tecnica qui per darvi il timing dell'entrata ok quando entrare come entrare con questi livelli chiavi ok identificati livello chiave vi dà poi il timing appunto però avere un'idea del contesto fondamentale vi dà un vantaggio sul mercato perché vi assicuro che nel caso di un'uscita senza deal senza accordo del regno unito il movimento della sterlina sarà qualcosa di importante molto importante passo adesso invece quindi euro l'abbiamo fatto sterlina l'abbiamo fatta diamo magari un'occhiata a a un trade che che ho notato sulle copie che sono cross dn allora cross dn nel senso non sono usdn ma sono le valute tipo sterlina yen euro yen e poi vedrò un attimino se ci sono domande sì marco ha una domanda risponderò marco finisco questi questi due cross in yen e poi ti rispondo allora vediamo subito gbp contro gbp gpy sterlina yen perché presentano entrambi dei setup grafici abbastanza interessante grafico giornaliero ok e quindi cosa vediamo vediamo che avevamo quindi un movimento a ribasso un supporto vedete abbastanza importante ok supporto di importanza e ci siamo fermati quindi abbiamo fatto questo movimento al ribasso e abbiamo fatto poi un'impulsione rialzista enorme assurdo e siamo andati a riprendere il supporto precedente diventato adesso resistenza ok vedete questo questo grafico ok da questa resistenza abbiamo fatto un ritracciamento e siamo venuti a fare anche un nuovo pullback recentemente giusto se guardiamo diciamo nel nello specifico questo questo trade chiaramente qua c'è una forza al rialzo i compratori hanno spinto parecchio al rialzo però se guardiamo da un punto di vista del del trend e del diciamo l'analisi secondo la teoria di dow i minimi massimi abbiamo massimo massimo minimo minimo massimo minimo massimo minimo quindi il contesto a medio lungo termine e al ribasso stessa cosa il corto termine è passato chiaramente rialzista però finché questo livello su sterline yen mantiene diciamo il la pressione sui compratori noi possiamo giocare questo livello al ribasso ok quindi entrare più vicino possibile a questo livello di resistenza stop loss sopra la resistenza è sempre la stessa meccanica giusto stop loss sopra allora come prezzo ideale di stop loss possiamo impostarlo intorno a 145.40 questo è uno stop loss possibile ad esempio primo target ci sono diversi livelli per i target prima di tutto questo supporto vedete qua 140 60 questo è un target possibile poi abbiamo anche dei target più più lontani più interessanti anche 137 60 qua vi danno due trade molto 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 interessante dal punto di vista rischio guadagno se entro intorno a questa zona o anche un po più sotto posso anche lasciare un po più flessibilità al mercato anche un'entrata intorno a 143 70 per un stop loss intorno a 145 50 60 e un primo take profit 140 è un trade della madonna è un trade molto molto buono quindi questo è per gbp gpy e perché ne ho parlato ne ho parlato perché l'euro yen ha lo stesso setup precisamente ok se vediamo l'euro yen mi metto su un grafico giornaliero vediamo che è la stessa cosa ok abbiamo questo livello di resistenza assurdo ok lo vedete testato una volta due volte quindi un supporto che era un supporto di lunghissimo termine supporto di importanza ok supporto che è stato rotto con questo candelone e ci stiamo ritornando ci siamo ritornati abbiamo fatti il pullback adesso quindi siamo su due livelli di lungo termine di resistenza su entrambi gbp yen e euro yen e questo vi dà più o meno certezza vi dà un vantaggio statistico quando avete due livelli su dei cross che sono entrambi cross in yen qua sull'euro yen stesso scenario entrare più vicino possibile anche adesso perché l'euro yen in questo caso presentano il setup ancora più pulito della sterlina yen entrare più vicino possibile a questo supporto stop loss sopra primo take profit intorno a magari per chi non è molto aggressivo intorno al primo supporto secondo take profit per chi è un po' più vuole dare possibilità a questo trade di diventare un trade un po' più pesante sul sul secondo supporto zona 120 ok questo è un altro tipo di trade possibile su euro yen ok chiaramente non andate a tradare entrambi perché perché aumentate il vostro rischio di ce lo raddoppiate due volte il rischio quindi scegliete o la sterlina yen in questo caso o l'euro yen per questo short possibile allora mi diceva marco voleva dato un occhiato all'indice svizzero petroli lo farò dopo ok posso dare un occhiato all'indice svizzero senza problemi marco sui 20 eccolo qua l'indice svizzero come tutti gli indici di questo mondo tanto vi do un riassunto un riassunto su quello che succede sul mercato azionario dopo il movimento al ribasso di fine anno fine 2018 dicembre c'è stata una ripresa assurda dopo lo speech della fed dove ha detto che praticamente poteva rallentare power ha detto che poteva non soltanto rallentare il rialzo di tassi di interessi ma era pronto anche a più flessibilità sul mercato quindi chiaramente siamo ripartiti alla grande su tutti gli indici quelli più al rialzo al momento sono chiaramente quelli americani che hanno messo hanno fatto dei movimenti rialzista molto 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 forte ma quindi porta tutto il mercato mercato globale al rialzo incluso gli indici europei e anche quello svizzero ok questo per il contesto fondamentale adesso lo svizzero come vediamo si sta avvicinando man mano alla prima resistenza ok è una zona di resistenza abbastanza larga qua che abbiamo cerchiamo di far qualcosa di un po più pulito ecco qui quindi questo per me è la zona di resistenza chiave su questo indice zona 9105 9172 resistenza di lungo termine e resistenza che finché non è rotta può mantenere il mercato ok quindi se i compratori riescono a spingere il mercato e ad avere ottenere una rottura di questa resistenza c'è un scenario rialzista di lungo termine che di lungo termine che si disegna e diventa molto probabile in questo caso avremo lo stesso tipo di setup del solito quindi la rottura cercare il pullback per avere poi l'estensione del movimento fino a la resistenza successiva ok quindi questo è un scenario possibile sull'indice svizzero rottura di questa resistenza e poi impulsione nuovo swing rialzista fino alla resistenza che è in zona 9500 70 9600 ok quindi rottura pullback eccetera eccetera scenario invece del scenario diciamo venditor lo scenario ribassista mi sembra un po' più difficile dato la velocità di questo mercato vedete questo è un mercato molto molto veloce e dato anche del contesto lungo termine bisogna sempre guardare qual è il contesto di lungo termine e il lungo termine sull'indice è al rialzo ok incluso quello svizzero non è un contesto lungo termine al ribasso per cui secondo me questo questa resistenza chiaramente io non leggo il futuro però questa resistenza secondo me ha buone probabilità di cedere e di far nascere ancora un nuovo swing rialzista ma chi vuole shortare questa chi non condivide lo scenario rialzista e ha più un scenario al ribasso può shortare questa resistenza ok short sulla resistenza stop loss sopra la resistenza dando un po' di spazio al mercato magari stop loss sopra 9220 e poi come take profit può avere questo primo supporto o magari anche una cosa abbastanza abbastanza lontana ok questi sono i due i due scenari sull'indice svizzero tutto qua marco spero che ti sia stato d'aiuto continuo con altri mercati quindi abbiamo detto sterlina yen e euro yen su zone di resistenze lungo termine passo adesso invece a un altro grafico a un altro prodotto che ho analizzato e vedevo questo questo pattern grafico molto interessante allora non è di solito per chi mi segue lo sapete a me non piacciono tanto i canali formazione di trend line di canali sono uno che ama molto le formazioni orizzontali livelli chiavi orizzontali di supporti e resistenze perché è semplice e chiaro è una cosa che mi piace semplicemente quindi non utilizzo spesso le trend line o canali al rialzo canali al ribasso però oggi faccio un'eccezione perché ho trovato qualcosa che secondo me può essere molto valido siamo su usd cad ok quindi dollaro americano contro dollaro canadese e abbiamo un canale al rialzo molto pulito sono su un grafico giornaliero ok canale rialzista molto pulito ok con ogni volta dei piccoli eccessi sopra il canale per cui ho disegnato due ladi avete qua vediamo che ogni volta che abbiamo un test del lado superiore del canale rintraccia e rimbalza sul lado inferiore eccetera eccetera quindi questo canale sta mantenendo il prezzo da parecchio tempo abbiamo fatto un piccolo tocco sul lado superiore a dicembre e abbiamo fatto questo ritracciamento assurdo e ci stiamo avvicinando man mano al lado inferiore ok quindi finché rimane in questa dinamica di questo canale rialzista può essere interessante cercare un'entrata al rialzo ok ricordo il contesto qui è rialzista quindi un'entrata intorno a questa zona del lado inferiore del canale zona magari delle 1.30 potete anche monitorare come va il prezzo per entrare perché la possibilità per entrare al mercato ma un'entrata intorno a 1.30 20 1.30 30 stop loss magari sotto questo lado del canale sotto 1.29 1.28 90 ad esempio è un buon prezzo per uno stop loss e potete avere come take profit il lado prima di tutto per chi non vuole prendere un take profit troppo ampio questa prima resistenza 1.33 60 oppure il massimo precedente qui sopra e qua avete un trade abbastanza interessante con una formazione abbastanza fidabile ok questo è un altro trade possibile su usd cad chi vuole mettersi al ribasso su usd cad può aspettare prima di tutto la rottura del canale o anche può cercare di shortare intorno a questa zona qui lo short lo scenario ribassista sarebbe short intorno a la zona 1.31 90 1.32 livello psicologico ricordo 1.32 00 stop loss sopra e aver come target poi magari 1.28 02 così avete entrambi i scenari ma quello che secondo me rimane interessante è lo scenario rialzista questo per usd cad mi chiede massimiliano di dare un'occhiata su aud nzd e anche cad chf certo volontieri quindi aud nzd lo vediamo insieme subito grafico giornaliero aspettiamo che i dati caricano un po' di più eccoci qua allora contesto di lungo termine un range assurdo su aud nzd lo sappiamo è un mercato che fa che non è direzionale è un mercato che oscilla tra 1.12 lado superiore e lado inferiore intorno a 1 quindi è come se fossi un range proprio enorme ci siamo fermati in questo periodo intorno a questo supporto quindi il livello di interesse qui è questo qua c'è un eccesso qua con una falsa rottura quindi una trappola ribassista qui però abbiamo mantenuto in questi giorni il supporto delle 1.0450 zona 1.0450 60 ok finché questo supporto tieni i compratori cercano di tenere il mercato per lanciare un nuovo swing ribassista rialzista scusate rialzista se mi sbaglio non va bene quindi l'entrata long su aud nzd è chiaramente un'entrata più vicino possibile al supporto stop loss sotto il supporto primo take profit sulla resistenza precedente quindi resistenza 1.0640 ok questo è un trade possibile su aud nzd con questo supporto se guardiamo invece magari il il contesto si dicevo il lungo termine ma il medio termine anche ci dà comunque un'idea di un trend che rimane ribassista medio termine ok siamo medio termine ribassista abbiamo questo supporto chi vorrebbe shortare per vedere magari un nuovo swing al ribasso aspetta semplicemente la rottura di questo supporto per entrare short ok vedete come con un semplice livello potete adattare il vostro scenario giusto se io ho lo scenario ribassista non vado ad essere long sul supporto aspetto semplicemente la rottura del supporto per prendere il pullback e entro più vicino possibile al supporto che diventerà resistenza in questo caso ok ma ripeto finché non chiudiamo sotto il supporto in chiusura giornaliera finché tiene il supporto potenzialmente aud nzd può lanciare un nuovo long da questo livello che è dato ovviamente il contesto di range di lungo termine questo per questo cross l'altro che mi dicevi Massimiliano era dollaro canadese CHF con svizzero prendo un grafico giornaliero e qui abbiamo già qualcosa di molto diverso perché abbiamo momentum rialzista ok dovuto alla forza del dollaro canadese e prima resistenza zona 076-70 077 diciamo questa è la nostra prima zona di resistenza quindi qua c'è ben poco da dire siamo al rialzo sul corto termine sul lungo termine bisognerebbe avere un po' più dati mi sembra molto di range questo range con di range con magari un piccolo lungo termine al rialzo ma veramente piccolo mi sembra veramente mercato laterale mercato laterale corto termine ancora una volta molto veloce momentum forte al rialzo i compratori hanno la mano su questo mercato quindi inutile mettersi davanti adesso inutile cercare di di andare contro il treno ok bisogna aspettare per chi vuole entrare short la prima resistenza ok prima resistenza è qui vi do il livello l'entrata short per chi vuole shortare si deve fare intorno a questa zona con lo stop loss sempre sopra la resistenza ok mentre chi è chi è già long su questo CAD CHF chiaramente si fa due domande se ha già profitti di chiudere parte dei profitti sulla resistenza ok oppure magari aspetta la rottura della resistenza per avere un nuovo swing rialzista che porta un po' più a nord ok questi sono i scenari per CAD CHF ancora una volta io non leggo il futuro Massimiliano non lo so cosa farà CAD CHF l'unica cosa che posso dirti è che questa è la resistenza maggiore da tenere sott'occhio e intorno a questo livello di resistenza secondo la price action o i compratori rompono completamente la resistenza e portano il cross sopra in zona 0,78 40 oppure i venditori riescono a difendere questa resistenza e riescono a far rintracciare questo mercato ok quindi devi decidere qual è il tuo scenario qual è il scenario che preferisci e da che parte stai o sei compratore o sei venditore giusto ti dirò semplicemente che per adesso il momentum è veramente forte al rialzo ok quindi mettersi davanti a questo shortare al prezzo di adesso non ha non ha molto senso non fa molto senso tutto qua continuo perché abbiamo ancora due o tre mercati che vorrei farvi vedere soprattutto il petrolio perché il petrolio sta passando da un trend lunghissimo termine ribassista a qualcosa che assomiglia al rialzo dicevamo due settimane fa se vi ricordate questa è la resistenza finché questa resistenza tiene possiamo shortare a occhi chiusi ok bene la resistenza ha tenuto una volta ma alla seconda volta è stata rotta ok è stata rotta proprio settimana scorsa ok abbiamo questo candelone verde che rompe la resistenza chiusura sopra la zona di resistenza e quindi è una rottura valida abbiamo anche avuto ieri il pullback ok quindi qua lo vedete lo scenario rottura pullback e quindi stiamo partendo adesso con un candelone verde oggi potenzialmente un nuovo trade al rialzo sul petrolio ok quindi un'inversione di questo trend che era al ribasso vedete questo trend che ha portato il petrolio da 76 a 42 qua potenzialmente abbiamo il contrario ok allora per operare intorno a questo livello rottura pullback entrata chi non è entrato ieri ha anche possibilità di entrare oggi direi non siamo molto molto lontano da livello di supporto basta impostare lo stop loss magari o sotto questo minimo o sotto l'altro minimo ma sotto questo minimo secondo me va benissimo poi target al rialzo estensioni fino a questo livello qui ok questo è il vostro primo target era un livello di importanza maggiore lo vedete qui zona 63 65 64 50 questo è il vostro take profit di lungo termine e vi dà già un bel trade ok entrata intorno a 55 target 65 sono 10 dollari sul petrolio per un stop loss a 51 4 dollari rapporto rischio guadagno molto positivo più di 2 quindi un trade abbastanza valido chi vuole entrare short sul petrolio potrebbe shortare potrebbe provare a shortare questo livello intermediario che abbiamo qui ok questa resistenza questa resistenza che è in mezzo diciamo alla resistenza di lungo termine una resistenza di medio o corto termine 58 livello psicologico provare un'entrata short intorno a questo livello stop loss sopra ok così avete entrambi i scenari al rialzo e anche per chi vuole entrare al ribasso questo per il petrolio finirò con il webinar con un ultimo prodotto che non abbiamo visto da parecchio tempo perché si tratta del nostro carissimo bitcoin non ne ho parlato più perché non c'era niente e tuttora c'è ben poco da dire ma voglio fare un punto sul bitcoin il bitcoin quindi aveva rotto fa sempre la stessa cosa se non è stato il bitcoin rompe e si mette in un range per un bel po' di tempo quindi qua aveva rotto c'era la rottura di questo supporto ok rottura bella e chiara complimenti a chi l'aveva preso e chi ha fatto soldi in questo trend al ribasso e da questo da questa rottura siamo di nuovo in un range ok siamo bloccati in un range di cui il lato superiore è 4.290 4.300 4.300 lato inferiore invece zona 3.300 ok questo è il nostro range il contesto di lungo termine sul bitcoin rimane al ribasso ok e quindi non non ci aspettiamo un cambiamento di trend un cambio trend un'inversione trend mi sembra difficile soprattutto perché stiamo mangiando e ci stiamo avvicinando poco a poco al lato inferiore del supporto e c'è questo questo piccolo fatto su le rotture che magari vi do quest'input che ho notato dopo magari sette anni a guardare questi grafici spesso quando ci avviciniamo ad un supporto velocemente quando ci sono candeloni grossi vicino a zone di supporto o resistenze poco spesso succede una rottura cioè più ci avviciniamo velocemente a un livello chiave meno la rottura è probabile mentre quando poco a poco ci avviciniamo come qui a un livello di supporto resistenza cioè accumuliamo una potenziale distribuzione è altamente probabile ok come qui vedete qua c'è poco a poco abbiamo questo range veramente piccolo quindi il mercato accumula e poi distribuisce con una rottura assurda stessa cosa qui stiamo accumulando e ci avviciniamo poco a poco al supporto e una una rottura al ribasso secondo me è lo scenario più probabile sul bitcoin ok dove potrebbe fermarsi questa questa rottura c'è il livello psicologico dei 3000 che è un po' sotto però a questo punto penso che il livello che tutti stanno tenendo sott'occhio è il livello dei 2000 dollari ok livello psicologico 2000 dollari tutti ne parlano e quindi questo è diciamo il prossimo target per la rottura di questo range su bitcoin tutto qua per oggi verifico se ci sono altre domande se volete farmi delle domande non esitate fatemi la domanda subito prima che chiudiamo ricordo se volete vedere questi webinar che facciamo in replay basta andare sul sito nagamarkets.com avete poi strumenti academy e qui avete il link del nostro canale youtube i webinar sono spesso disponibili il giorno dopo o nella stessa giornata sono caricati sul canale youtube e ve le potete vedere ricordo anche per chi aveva seguito i webinar che abbiamo fatto su fibonacci a dicembre siamo riusciti a caricarlo sul canale youtube quindi ve lo potete rivedere non ci sono altre domande quindi vi ringrazio ancora una volta per averci seguito oggi vi auguro buona settimana di trading un trading di successo il nostro team rimane a vostra disposizione per qualsiasi domanda potete avere per qualsiasi suggerimento avete magari su questi formati dei webinar vi dico buona giornata e arrivederci ciao per qualsiasi domanda